All'inizio ero incerta di intraprendere questa dieta perché non amo cucinare e stare dietro i fornelli e le pentole, quindi il mio dubbio era se riuscivo a cucinare, a spendere tempo per le pentole. Mi sentivo talmente male anche fisicamente che ho deciso, guardando anche le testimonianze su internet e leggendo le pubblicità, di venire al vostro appuntamento.